Giova, buon pomeriggio, siamo tornati post Liegi per fare un'analisi della gara, forse della monumento più bruttina, possiamo dire, delle due passate, anzi delle tre passate, questa era la quarta. Innanzitutto come va, come stai? Abbiamo visto che eri a fare un po' di ricognizioni per un ente televisivo, non so se vuoi parlare brevemente. Buon pomeriggio a tutti, sì, sì, ho avuto l'occasione di fare questa bella esperienza, ho fatto la ricognizione delle prime cinque tappe, un bel lavoro, il ciclismo visto da dietro le quinte, ecco, quello che non mi era mai capitato, quindi sono contento, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Sono tornato a casa ancora per poco e poi si parte tra pochino per il giro E. Dove ci sfideremo sulle tre cime della Maredo? E io posso portare la maglia di Fanta Cycling, cavolo. Eh no, ti toccherà, ti toccherà portare la maglia social di Fanta Cycling, sicuramente in qualche tappa la porterai. Possiamo dirlo, l'ente televisivo è la Rai, tanto voglio dire, non ci abbiamo niente da nascondere. Ma sì, io in realtà ho lavorato con Publi Team, che è poi chi si occupa di creare questi contenuti, questi video, che dureranno circa tre minuti, ma sono molto belli, molto belli. Quindi drone, slow motion, belli, poi spieghi come è la tappa del giorno, del giorno dopo. Una bella esperienza. Perfetto. Andando sulla Liegi, allora è stata come abbiamo anticipato una gara forse un po' scontata, perché purtroppo è successo l'imponderabile, quello che tutti noi non pensavamo potesse succedere, perché sembrava quasi che non gli capitasse mai nulla. In realtà purtroppo... Però poi un po' gliel'abbiamo tirata, perché noi si è detto che l'unico... qual è l'unico modo per battere Pogaccia? È vero, gliel'abbiamo gufata. L'unico modo per battere Pogaccia? Oddio, aspetta, perché vedendo le Venepul di ieri... Infatti, diciamo il succo del video sarà questo. Cioè, a parte la sfortuna, un po' per noi telespettatori e anche chi era sul percorso e anche gli atleti stessi, anche Velasco ieri sera è venuto in live, ha detto che mi sarebbe piaciuto vedere Pogaccia e le Venepul passarmi accanto e scozzare, come si dice in toscano, sulla Redoute. Ma detto questo, ok, la sfortuna purtroppo ha tolto di mezzo Pogaccia a metà... Anzi, per prima della metà della gara e Venepul ha avuto la strada un po' spianata, diciamo, no? Però c'era ancora il dubbio, come avevamo detto anche nel video precedente, che tornando dall'altura probabilmente la gamba non era al top. Ora, la domanda che ti faccio è, se questo è Venepul con una gamba senza gare, e quindi non ancora al top, l'Evenepul al top, com'è? Allora, io ti avevo detto che comunque questo tipo di corridori, queste squadre, ormai sanno che se tornano giù a correre la Liegi è perché stanno bene. Io, dentro di me, spero che non sia vero ciò che ha dichiarato Evenepul, perché lui ha detto che sono al 105%, sono pronto alla sfida con Pogaccia. Lui ha detto queste cose prima della gara. Io spero che non sia così, perché il 105% dovrà averlo fra un mesetto, no? Terza settimana. Se non era al 95%, sicuramente. Siamo stati privati di un bello scontro, quello è chiaro, ci poteva stare, però a parte gli scherzi, noi si diceva per scherzare, ma era diventato davvero quasi l'unico modo per battere Pogaccia, tranne che per un Evenepul del genere, tranne che per un corridore con quello stato di forma che non è a tutta, come dice lui, non è al 105%, è impossibile, è impossibile. Sceso dall'altura, qualcosa ti rimane ancora nelle gambe. Lui sapeva che sarebbe stato competitivo, ma forse neanche lui si aspettava fino a questo punto. Poi non dimentichiamoci sempre che è sembrato tutto molto più facile perché, ragazzi, tolto questi 4-5 fenomeni fuori classe assoluti, c'è il vuoto. C'è gente molto forte, ma che fa sembrare quasi uno scalino grandissimo, c'è uno scalino esagerato tra loro e questo tipo di corridori. Quindi tutto sembra ancora più facile, anche per questo, perché questi qui fanno la differenza completamente. Sì, diciamo, Giova, che dopo Evenepul, lo stesso Pitco, che è arrivato secondo, ha dimostrato comunque di avere dei limiti, anche se è il primo podio in un monumento che fa, e l'ha rimarcato nelle interviste post-gara, però ha dimostrato di avere dei limiti. Ili è questo giovane che arriva dal niente e sta facendo bene nelle ultime gare, ma è comunque sempre un giovane che non ha curriculum adesso. Buitragola sorpresissima di giornata. E poi i piazzamenti Conrad, Schemose, gente che forse vederla nella top 10 della Liegi fa un po' strano, no? Quindi sicuramente quello che dici te, cioè il livello dietro Evenepul è un livello alto, medio-alto, ma non al top. Come è Evenepul, Pogacar, Van Aert, Roglic alla Filippi. Cioè, gli anni scorsi vedevamo Roglic in forma, la Filippa al top, lo stesso Pogacar, lottare per l'ultimo metro è una vittoria della Liegi. Quest'anno, anche l'anno scorso, effettivamente, complice anche forse della caduta della Filippi, è stata una Liegi simile a questa, ovvero è partita di Evenepul. Arrivederci. La domanda che ti faccio è questa. Un Pogacar in quello stato lì, in quella condizione lì che abbiamo visto sia all'Amster che alla Freccia, e questo Evenepul che dice di essere al 105%, ma secondo noi probabilmente dovrà ancora crescere. Cioè, che cosa sarebbe stato e non è stato? Purtroppo si parla di sedi, ma è del nulla. Però, poteva vincere lo stesso Evenepul o sarebbe stato comunque duro a battere Pogacar? Cioè, cosa avrebbe dovuto fare Evenepul? Perché questo Evenepul è stato forte, ma a tratti sembrava veramente in allenamento. Cioè, non si è mai visto spingere a fondo. Sembrava veramente che facesse un allenamento. Allora, col senno di poi, mi devo un po' ricredere, perché io avevo dato assolutamente la tripletta di Pogacar. No, l'ho detto anche da... Tutti. Tutti. Sarebbe stato uno scontro spaziale. Spaziale perché si tratta di due extraterrestri. Ieri era un extraterrestre anche Venepul. Non so, non so dirti davvero se avrebbe potuto vincere così facilmente Pogacar. Ma neanche, non solo facilmente, ma neanche difficilmente. Nel senso, ieri, dopo averlo visto, questo Evenepul, io credo che probabilmente il risultato poteva finire così. Lo stesso. Solo che al secondo posto ci sarebbe stato Pogacar. Mi voglio sbilanciare. Ieri Pogacar non ce l'avrebbe fatta perché mi viene da pensare questo perché vedo un Evenepul straforte che deve ancora crescere. E secondo me ieri Pogacar era alla sua ultima gara prima di staccare un po'. E quindi lui poteva essere già nella parabola discendente, no? Nella fase sono arrivato qui, ora devo staccare. Quindi c'era questa differenza. Uno sta andando su, l'altro arrivava preciso preciso per poi mollare. Quindi potrebbe anche essere stato un segno del destino, non lo so, che ci ha privato di sto scontro. Sicuramente sarebbe stato uno scontro davvero spaziale, fantastico, fino all'ultimo metro. E non mi sento di dire se ce l'avrebbe fatta Pogacar o Evenepul. Ma sì, semmai mi sbilancierei un po' di più verso Evenepul dopo averlo visto. Ho fatto un po' un casino, però avete capito. No, ci deve essere come un dio del ciclismo che quando c'è un evento particolare arriva e scombina piani e non ci fa godere dal divano. No, ci deve essere come le grandi aziende, senza fare nomi, la Apple per esempio, no? Che ci fa un iPhone ogni sei mesi e ci fa sapere che ne uscirà un altro. Però ti tiene lì, sai, ti tengono lì attaccato perché ti devono lasciare con la voglia di vedere, oppure la serie Mare fuori, no? Tutti siamo lì che facciamo la terza serie e ti fanno aspettare. E questo cresce ancora di più l'interesse. No, è vero, è vero. Peccato perché poteva essere, non è stato. Magari lo sarà in futuro, ecco. Sicuramente Evenepul ora quest'anno sarà a giro e lo godremo a giro contro Logrici. Ma sicuramente il prossimo anno probabilmente andrà al Tour e quindi lì per forza di cose questo duello dovrà capitare perché fondamentalmente Pogaccia e Evenepul sono i due astri nascenti, tutti e due giovanissimi. Pogaccia leggermente più grande che però teoricamente per i prossimi 5, 6, 7 anni forse anche di più, boh, chi lo sa, se ne daranno di santa ragione. Quindi probabilmente abbiamo perso, diciamo, l'antipasto, però c'è sempre il primo, il secondo, la frutta, il dolce, insomma, un bordello di cose. Giova, grazie per questo video. Noi ci becchiamo domattina a far colazione in zona Bagni di Lucca. Eh, domani Bagni di Lucca, Gran Fondo del Vento, mi raccomando, eh. Gran Fondo del Vento, Giova mi ha scritto, c'ho messaggio, ha detto, a tutta dal primo metro. Che pari, non sapevo io. Ho detto l'opposto, ho detto l'opposto. Ha detto, andiamo piano a chiacchiera, infatti sì, io non sono per le competizioni, sono per le chiacchierate, andare in bicicletta, anche perché ora è uscita l'intervista, no, del preparatore di Pogaccia che dice che lui si allena tanto in Z2. Eh, allora noi la facciamo sta Z2. Ma anche Z1, ma anche Z2. Z come 0, basta, va bellissimo. L'importante è non prendere ZTL. Eh, paghi te. Pago io, colazione pago io, dai. Ciao Giova, grazie. Ciao, ciao a tutti.